Ciao ragazzi, benvenuti tutti a questo corso online su basi di matematica. Mi chiamo Sergio Castellano e insegno alla Università di Foggia. Quattro argomenti saranno trattati. Sette, numeriche, monomiche e polinomiche, esponenziali e logaritmi. Quindi troverete videoclipi corti, presentazioni e testi. Ovviamente non saranno esattati. È necessario per voi dipendere con strumenti tradizionali come libri e materiali su internet o altri materiali educativi che potrete trovare nella MOOC. Troverete anche un forum nella MOOC dove potrete comunicare con i miei colleghi o con me. Quindi, se studiate per un test di admittura alla Università scientifica, o semplicemente se vuoi raffreddare alcune basi di matematica, queste attività ti aiutano. Quindi, è tutto ragazzi, piaceremo la visione. Grazie. Grazie.